Molti tifosi juventini si sono ingenuamente chiesti perché i nerazzurri abbiano giocato con tanta volontà di vincere. Questi juventini sono giovani e non sanno di un'antica rivalità tra Juventus e Inter un tempo partitissima. La tradizione di onorare un incontro, gioco pesante a parte e ne diremo poi, è valida ancora e sono stati i ragazzi di Bersellini a non avere complessi nei confronti degli avversari. Le reti, la fuga solitaria del Cremonese Bini, la sveltezza di Muraro nello sfruttare un corto tocco all'indietro di Cucureddu, la bravura di Bettega a muoversi tra tante gambe, il gran tiro di Cucureddu su punizione. A questo punto ci viene in mente Juve-Inter del 13 novembre 1949. L'Inter va a 2 a 0, poi la Juve rimonta e vince 3 a 2. Gli attaccanti bianconeri si chiamavano Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Il gol della vittoria venne da un mediano, il povero Alberto Piccinini. Parecchi i quasi gol, Tardelli, Altobelli, Baresi, Muraro, Bettega, Benetti e il palo, ancora Tardelli. Con il Torino potevate vincere, con l'Inter potevate vincere e invece sono stati due pareggi. Qual è la ragione? Qual è la ragione? Ci sono tanti fattori che determinano un risultato. Ad esempio col Torino abbiamo avuto grosse occasioni, abbiamo mantenuto anche il gioco del campo, della palla contro una squadra che poi giocava oltre tutto col pressing. Contro l'Inter abbiamo subito due gol nel primo tempo, abbiamo ricurato molto bene, si sa anche tutto che diciamo remare contro corrente è veramente dura. Abbiamo disputato una grandissima partita, specialmente nel primo tempo, dove erano svantaggio per 2-0, siamo riusciti a recuperare. Mentre nella ripresa abbiamo sfrattato la vittoria con un palo di Benetti e una gran parata di Bordon sul tiro di Bettega.